Io credo che non ci sia una seconda, una terza, una quarta incomoda, credo che ci sia un novero di squadre che si combattono il campionato e la vittoria finale. Noi indegnamente siamo in questo novero, ci stiamo guadagnando domenica su domenica la possibilità di restarci in forma stabile e quindi siamo contenti così. Sono felice di vedere i miei collaboratori con questa felicità addosso, soprattutto per il mister che insomma viene da un periodo anche di dure critiche, spesso ingiustificate. Quindi io sono felice che poi i risultati alla fine premiano le nostre scelte. Secondo me non è da considerare un sogno, lo stiamo raggiungendo però diciamo che abbiamo i mezzi per poter correre insieme alle altre. E' normale che non possiamo pensare di vincerle tutte a spasso perché ribadisco il campionato è difficile, oggi il Chiedi ha vinto l'ultimo col Monte Rotondo, noi abbiamo sofferto col Tivoli. Il campionato è molto equilibrato però io credo che l'Avezzano abbia la struttura sia societaria sia come squadra sia l'apporto del pubblico per poter correre insieme alle altre e sapendo che non è un compito semplice perché anche le altre sono attrezzate per fare il campionato importante. Sì, è stata una partita dove sicuramente usciamo con un grande rammarico al cospetto di una squadra forte, però penso che il secondo tempo della Tivoli oggi sia stato un secondo tempo veramente eccezionale. Quindi i ragazzi non debbono guardare la classifica ora, debbono guardare a quello che fanno quotidianamente e penso che oggi debbano essere orgogliosi della partita che hanno fatto. Ripeto, al cospetto di una squadra fortissima.